Il fuoco si sta muovendo! Non fatti riprendere dal fuoco! Ok, bella! È il momento! Non fatti riprendere dal fuoco! Ok, augurami buona fortuna! Vado di qua! Ok, ci sono! Edel's Gate dei miei coglioni! Mi sto muovendo! Fine della strada! Copritemi le spalle! Vado! Copritemi! Copritemi! la sono fatta sotto la città non si sveglia nessuno per dire ideona farò il coltivatore di grano per tutta la vita non si dammi un buon fucile e ammazzerò qualche bastardo setterolo quando il tuo vicino di casa è a 10 miglia impari rapidamente a essere autosufficiente se ci bastano le munizioni possiamo vincere grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Copritemi! Mi muovo! Ok! Mi sto muovendo. Io me la do la gamba! Spacchiamoli tutti! Arrivo! Arrivo! Vado di qua! Non avrò pace finché non ti trovo! Guai in arrivo. Fuolo! Copritemi! Gesù Cristo! Grazie per avermi salvato la pelle. Il bunker di John è la dispensa della setta. È lì... Gesù Cristo! Ci riprenderemo questa terra. Cazzo succede! Ricevuto! Spero tu abbia trovato qualcosa di utile. Spero tu abbia trovato qualcosa di utile. Ehi! Quassù! Mi serve il tuo aiuto! Mi serve un minuto. Copritemi le spalle! Qui Grace, sono di guardia alla chiesa dell'agnello di Dio. I Edeniti non se ne vogliono andare. Qui Grace, sono di guardia alla chiesa dell'agnello di Dio. I Edeniti non se ne vogliono andare. Vado! Non ferma! Vedete che sia meglio da morti! Spacchiamoli tutti! Datti una calmata! Non ti sto aspettando! Non ti sto aspettando! Non ti sto aspettando! Sto per te! Se non ti unisce a noi... Ok! Non capisci! Ti muovo! Sparre! Ma hai sentito, peccatrice? Satana! Aff... Bello così! In mezzo alla fronte! Che vorrà molto di più se fermarmi! Che vorrà molto di più se fermarmi! Che vorrà molto di più se ferma! Che vorrà molto di più! Sono sul campanile! Sono sul campanile! ehi campanile stai cercando guai sono grace e raggiunta voce di un tizio che va in giro a mettere i bastoni tra le ruote alla setta ottimo tempismo le vedi quelle tombe laggiù ci sono sepolti degli eroi di guerra e mio padre è uno di loro gli edeniti vogliono profanarle vogliono cancellare la nostra storia ci vogliono demoralizzare vogliono farci passare la testa ma io non ci sto finché ci sarò io nessuno toccherà la tomba di mio padre ho una buona mira ma mi serve qualcuno che mi copre saranno qua da un momento all'altro guarda sud est dobbiamo subito cacciarli da quel devi aiutarmi a sparpagliarli un po muoviti in giro facciamo in modo che non si venga sono alla tomba non puoi non puoi non vedo dai and U.S.A. U.S.A. Completemi. U.S.A. 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 Padre! Vado! Mi sto muovendo. Cazzo! Non c'è da quella... Che è successo? Merda! Mi hanno fissita! Mi hanno fissato! Mi hanno fissuto! Mi hanno fissuto! Mi hanno fissuto! Come va? Qui Grace, sono... Copritemi le spalle! Usate i fumogeni! Devi aiutarmi a sparpagliarli un po'! Muoviti in giro! Uovo, copritemi! Non sai manco sparare! Occhio! Dobbiamo toglierle la visuale! Usate i fumogeni! Copritemi! Qualcuno lo si sta parando! Accettate! Io vuole la tua morte! Giù c'è l'esco! Quei peccatori di guerra sono un'ispirazione! Ti strappo il cuore e me la mangio! Quei peccatori di guerra sono un'ispirazione! I peccatori vanno... I peccatori vanno... Distruggiamo quelle tombe! Va bene! Vado di qua! Gesù c'è! Distruggiamo quelle tombe! Dove sono andati? Ricevuti! Quante! Quante! C'è l'escovo! Merda! Ne hanno presa un... Dobbiamo fare di meglio! Abbiamo bisogno di... Sono ferita! Indietro! Fora! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Debitrice, ce n'è poca di gente che si mette in gioco così. Vuol dire molto per me. Mio padre diceva sempre che finché ci fidiamo gli uni degli altri c'è speranza. Se restiamo uniti, se ci aiutiamo a vicenda, la setta non ci spezzerà mai. Non voglio fare la sentimentale, ma semmai avrai bisogno d'aiuto. Chiamami. Ci sarò. Ehi la. Ehi la. Grazie. 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 Mi servirebbe una mano E così hai conosciuto Grace La conosco fin da quando era bambina Onesta, tosta Un soldato come suo padre Ma con una mira dieci volte migliore Mi guarderà le spalle quando la situazione si farà critica Vado! Un soldato come suo padre Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, 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 sì! 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 Non tenerci! Ogni nostra azione fa la differenza! Che grande cosa che hai fatto a Fullsend! I Laurel ci hanno chiamati per dirci che il loro bunker è compromesso! Danni da allagamento! L'anno abandonato ma se ci andiamo, possiamo prendere tutto quello che hanno lasciato! Grazie a tutti. 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 No, no. Torna quando vuoi, ok? Avanti. Vieni qui, bellezza. La setta ha smesso di giocare. Ehi là, hai un momento? Grazie, tu mi ascolti. Hai la faccia di un pescatore navigato. Non ho niente da insegnarti. Sarebbe un peccato non sfruttare il vantaggio della pesca da queste parti. Un momento come questo, o i tempi che corrono, ti fa bene all'anima. È importante non dimenticare quello per cui vale la pena lottare. Beh, per come la vedo io, il più grande problema dei nostri tempi nasce dal fatto che la gente non pensa prima di agire. Non possiamo risolvere tutto a suon di proiettili, no? Comunque, io la vedo così. Se ti servono attrezzature, esche o cose simili, sono il tuo uomo. Non possiamo risolvere tutto a suon di proiettili. Non possiamo risolvere tutto a suon di proiettili. Se ti servono attrezzature, è perchè脖iva continua a rigur��. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bello vedere un altro appassionato di pesca. E' bello vedere un altro appassionato. E' bello vedere un altro appassionato di pesca. Smerta, mi hanno colpita! Aiuto! Sono disarmato! Cazzo! Dove mi hanno colpita? Pensavo di essere finita prima che arrivassi tu. Proviamoci. E' bello vedere un altro appassionato di pesca. E' bello vedere un altro appassionato. E' bello vedere un altro appassionato. Sì, sì. Non possiamo fermarci se vogliamo rimanere una mossa avanti. Ehi! Grazie. Qualcuno ha sentito Zip blaterare che vuole lanciare un altro attacco alla setta. Zip è una brava persona, ma anche un matto. Gli serve qualcuno con del cervello. La chiesa ha paura di combattere a ripugio. Continuo a vedere gli assassini della setta che ha chiuso a vedere. Pronti? Via! E' sempre qualcosa da dire, eh? Grazie per avermi salvato il culo. Non prendono solo animali e cibo in scatola. La loro mietitura ci ha portato via un sacco di... Ehi! Dov'è il tuo... Mi sto muovendo. Ehi! Passa da qui! Fino a poco tempo fa, l'unica cosa di cui avevo paura era che il governo mi portasse via le armi. Di quel che vuoi, ma con la setta ho messo un sacco di cose in prospettiva. Che lo show abbia inizio. Sì! 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 Lotterò contro quei bastardi al meglio delle mie forze. Sì! Ci sono io! Andiamoci dentro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cibo, le risorse e le persone. Ora guarderò al progetto... Li farò urlare dal dolore. Copritemi le spalle! So che non ci verrà dato volontariamente. Verrà preso con la forza. Di nuovo, copritemi! Fa male, cazzo! Merda, mi hanno colpita! F***a le cazzo! Mi hanno presa! Me hanno proiettili! Mi hanno presa! Erda, mi hanno colpita! Merda, mi hanno colpita! Erda, mi hanno colpita! Mi hanno presa! Mi hanno presa! Mi hanno presa! Non puoi scapparci! Merda, mi hanno colpita! Mi hanno presa! Non puoi scappare! Ricevuto! Un momento! Spuola l'allarme! Non lasciamo scappare! Si guardate! La più! La prima risposta! Non lasciamo scappare! Farsi in avvicinamento da nord! Fuoco, copritemi!